Lo sbarco record al porto di Ancona, 336 migranti con la Ocean Viking, l'attracco in serata, le persone a bordo sono reduci da 4 salvataggi nel Mediterraneo effettuati dalla ONG SOS Mediterranea. Sempre al porto di Ancona, 30 cani importati legalmente scoperti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane erano in condizioni precarie, specie i 21 cuccioli stipati nei trasportini. A Macerata, arrestato per tentato omicidio un 26enne durante una litte con la ex compagna, l'uomo cubano ha aggredito il compagno della sorella della donna con una mannaia da cucina. Sanità, oggi la giornata della commemorazione delle vittime del Covid, a 4 anni dall'inizio della pandemia, macerate il ricordo ma anche i numeri della AST nel 2023, più 5,8% delle visite. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro notiziario, dunque in primo piano lo sbarco ad Ancona della Ocean Viking, l'attracco alle 17.22, 336 migranti salvati in diverse quattro operazioni nel Mediterraneo e appunto stanno sbarcando proprio in questi istanti dal porto di Ancona. Vi stiamo raccontando quello che accade con una diretta che abbiamo aperto dal tardo pomeriggio, allora ci colleghiamo subito con Giulia Boschi per un racconto estemporaneo di quello che sta accadendo in questo momento. A te la linea Giulia. Sì Linda, grazie per la linea. È appena partito il primo pullman di migranti alla volta del Pala Indor dove verranno espletate tutte le operazioni di riconoscimento da parte della Questura. Come abbiamo detto continuano chiaramente le operazioni di sbarco ma intanto questi primi migranti sono partiti. Abbiamo visto sul pullman c'erano anche diversi bambini perché sappiamo che nella Ocean Viking viaggiavano sia minori non accompagnati 32 ma anche 20 minori che invece hanno tentato l'attraversata insieme ai loro familiari. Quindi il primo pullman di migranti è partito. Ovviamente alle mie spalle continuano le operazioni di sbarco perché ovviamente si continuerà probabilmente per molte ore perché ricordiamo che in totale i migranti arrivati qui al porto di Ancona sono 336. Si tratta dello sbarco più grande mai registrato nel porto d'Orico, l'ottavo peraltro da quando gli sbarchi qui sono cominciati e quindi si proseguono le operazioni dalla Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranea. Sappiamo anche che tra i migranti ci sono due donne incinte e alcune persone che invece avevano bisogno di cure ospedaliere più importanti e quindi alcuni di loro, abbiamo visto anche delle ambulanze partire, quindi alcuni di loro probabilmente sono già stati trasferiti all'ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso. Sappiamo inoltre che nel fine settimana appena trascorso 23 migranti sono stati fatti sbarcare prima di arrivare al porto di Ancona, al porto di Catania, proprio perché le loro condizioni di salute erano critiche e quindi non era possibile arrivare qui. Sono stati fatti scendere prima, il trasbordo è stato fatto a largo però del porto di Catania in un'altra barca proprio perché la Ocean Viking non aveva avuto il permesso di attraccare. Quindi per il momento dal porto è tutto, ti restituisco la linea e poi ovviamente ci aggiorniamo per eventuali novità. Sì Giulia ci collegheremo a breve, ecco appunto questa è la situazione, sappiamo che appunto ci sono delle persone tra questi più di 300 che sono reduci da un vero e proprio naufragio dove sarebbero morte 60 persone tra le onde del Mediterraneo ma attraverso il contributo andiamo a capire meglio i numeri e soprattutto l'attività che riguarda la Croce Rossa impegnata in prima linea anche in questo sbarco. Sentiamo. Dopo il riconoscimento si aprirà presso le regioni per le loro richieste per chi lo farà di protezione internazionale e i compiti di Ancona a quel punto saranno conclusi. Comunque la situazione mi sembra abbastanza tranquilla per quanto possa vedere, non mi sembra per ora una situazione che ci crea grandi problemi. D'altra parte ve l'ho detto anche l'altra volta, la macchina organizzativa è molto ben oliata da altri 7 sbarchi, anche se stavolta è il 69% o più del numero dei migranti arrivati rispetto alla volta precedente. Palazzo dello Sport, sono andato prima, è perfetta la situazione e non abbiamo neanche, spero, dato molto fastidio perché Tamberi mi pare che ancora si stesse allenando stamattina, quindi cerchiamo di essere il meno possibile invadenti. Per quello che riguarda i minori, sono sempre 43 o alcuni sono stati fatti scendere? I minori sono scesi adesso al numero di 32. L'età più o meno? L'età è molto diffusa, si va da piccolini a piccolini, 5-6 anni fino a 12-13-15 anni, 16 anni, poi non so se nel riconoscimento usciranno altri minori che al momento non lo sembrano. Scusi ma questi 32 sono sempre non accompagnati oppure? Sono sempre non accompagnati, i minori accompagnati come vi ho detto prima sono con le famiglie e seguiranno le famiglie fuori dalle marche, poi sono 304 quelli che dobbiamo dislocare e più o meno saranno in parte uguali, tra Lazio, Puglia e Toscana. Poi di questi, del complesso, compresi i minori, 124 sono siriani che è l'etnia nettamente dominante, poi 56 pakistani, 27 egiziani, 27 maliani e poi altre 21 nazionalità. In totale il 53% sono medio orientali o asiatici, il 47% sono africani. E mi scusi, questi bambini invece che resteranno qua nelle Marche, tra le 5 province dove? 10 Ancona, 10 Pesacurbino, 4 Fermo, 4 Macerata, 4 Ascoli Piceno. Una volta che saranno stati identificati comunque la parte nostra è di dargli il te caldo, pasti in accordo con la prefettura, vestiti, scarpe e giochi per i bambini. E poi la parte grossa che facciamo noi è al palazzetto, una volta si trasferiranno noi al palazzetto noi siamo con loro, giochiamo con i bambini nell'attesa che loro facciano tutte le operazioni di riconoscimento. Quindi questa è la nostra parte che facciamo noi, veramente di accoglienza e di prime necessità che gli diamo. Ovviamente la difficoltà della lingua è notevole, però con i bambini dialoghi con il comportamento, con il sorriso e con i giochi. E quindi noi gli diamo questi giochi, ci giochiamo con loro, anche se non parliamo la stessa lingua comunque è un'emozione che comunque loro ti danno. Sono sempre quando li vedi che sorridono, poi dopo per te è ripagamento di tutto quello che è la fatica che prendiamo qui poi oggi con la pioggia. Un presidio di solidarietà ma anche di protesta contro le leggi disumane, così è stato definito quello che ha accolto la nave Ocean Viking. Quindi un presidio che ha visto protagonisti, associazioni e sindacati. Allora sentiamo le motivazioni. Il sentimento è quello dello sdegno. Poco lontano dalla banchina 19 dell'attacco della Ocean Viking, con a bordo i 336 migranti soccorsi in mare, sindacati e un gruppo di associazioni si sono riuniti in presidio nel tardo pomeriggio ad Ancona. CGLC's The Wheel Market, Università per la Pace, Ampi, Amnesty, Free Woman, Associazione Gulliver Sinistra Universitaria, Libera, Associazione Festa per la Libertà dei Popoli, Rete Welcome, Gruppo Anarchico Crosstad, Terza Via, Associazione Senza Confini, Ribò Unità di Strada, Gruppo Immigrazione, Salute delle Marche. È inaccettabile che si possa far passare 1450 chilometri sopra una nave a donne, uomini e bambini in condizioni di salute precarie, pessime. È stato previsto l'approdo a Catania. Sono stati fatti scendere soltanto 23 persone migranti. Ci domandiamo perché non dare soccorso immediatamente a tutte le persone che invece avevano condizioni di salute così precarie. Ma il presidio per di oggi è anche per esprimere la nostra solidarietà e la nostra accoglienza alle donne, agli uomini e ai bambini che stanno arrivando. Perché riteniamo disumano che al giorno d'oggi si possa morire di fame, di sete o annegati soltanto perché si cerca di sfuggire a situazioni di vita estremamente precari in paesi in cui la povertà o le guerre la fanno la voce grande. Quindi noi vogliamo proprio esprimere a tutte le donne, a tutti gli uomini che qui possono trovare persone pronte ad accoglierli e a dare loro aiuto. E torneremo a dare aggiornamenti appunto sull'arrivo della Ocean Viking tra poco ma andiamo in onda, proseguiamo con il nostro notiziario sempre alla porto di Ancona. Tra l'altro 30 cani importati illegalmente scoperti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. In particolare difficoltà più di 20 cuccioli stipati in dei trasportini. Sentiamo Andrea Fiano. Al porto di Ancona la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli hanno salvato 30 cani importati illegalmente. Nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui mezzi che sbarcano dalle navi di linee in arrivo nel porto d'Orico, Fiamme Gialle e Dogane hanno scoperto in un'auto proveniente dalla Turchia e sbarcata da una motonave proveniente dalla Grecia 30 cani trasportati in condizioni assolutamente precarie. In violazione a quanto previsto dalle normative in materia di protezione degli animali da compagnia e di conseguenza introdotti illegalmente in Italia. I due cittadini a bordo della vettura, un uomo di nazionalità turca ed una donna tedesca, avevano 21 cuccioli stipati in tre trasportini e nove cani adulti di piccola taglia trasportati in un unico box. La coppia, proveniente dalla Turchia e proprietaria degli animali, ha tentato di introdurli nel territorio dell'Unione Europea senza che fossero provvisti della prescritta documentazione senza alcuna attestazione riguardo al rispetto della profilassi prevista dalla normativa veterinaria vigente. I 21 cuccioli sono risultati avere meno di 90 giorni di vita, età minima richiesta dalla legge per poter essere trasportati e privi di microchip e di qualsiasi tipo di documentazione. I nove cani adulti di piccola taglia e dotati di microchip erano accompagnati da documentazione sanitaria incompleta. Gli animali, a causa delle modalità di trasporto evidentemente inadeguate, si presentavano in condizione di forte stress, manifestando nervosismo e un forte stato di malessere. Sono stati subito sottoposti a visita, accertate le loro condizioni di salute, si è proceduto alle formalità previste per regolarizzarli applicando i prescritti microchip per l'identificazione. I 30 cani sono stati sequestrati e i due proprietari denunciati all'autorità giudiziaria per traffico illecito di animali da compagnia e maltrattamento. Gli animali sono stati affidati e sono ora custoditi presso un'idonea struttura della provincia di Ancona, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dei successivi provvedimenti. C'è un aggiornamento che abbiamo in diretta, incidente sulla strada statale 16 Adriattica, traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni ad Ancona a causa di un doppio incidente con 5 feriti che è avvenuto all'interno della galleria Montagnola. al lavoro il personale Anas intervenuto per ripristinare la viabilità e quindi c'è stato un doppio incidente all'interno della galleria, al momento si transita a senso unico alternato, due schianti entrambi lungo la corsia a nord, in un è rimasto coinvolto uno scooter, i feriti di cui uno grave sarebbe stato tra l'altro investito, sono stati tutti accompagnati a torrette e quindi questa è la situazione in aggiornamento. Adesso andiamo a macerata per un'altra news di cronaca, arrestato per tentato omicidio un 26enne durante una lite con la ex compagna, l'uomo di origine cubana ha aggredito il compagno della sorella della donna con una mannaia da cucina, sfiorato un fendente al collo. La lettera scoppiata perché il 26enne aveva accusato la ex uscita con le amiche lasciando a casa la figlia con la babysitter, l'uomo è stato arrestato e si trova in carcere a Montacuto con l'accusa appunto di tentato omicidio. Il comune di Ancona supporta il progetto Casalinghe Digitali, vediamo. Nonostante quello che si possa pensare sono tanti cittadini che non riescono ad accedere ancora a tanti servizi online perché ad esempio hanno difficoltà con lo speed, con le mail, con la PEC, con le varie iscrizioni ai siti ma anche quei cittadini che rimangono indietro e quindi qui parliamo di democrazia digitale anche sul campo dell'informazione perché non sono magari in grado di consultare giornali online, hanno difficoltà con i cellulari, con le nuove tecnologie. Casalinghe e casalinghi digitali, un progetto che nasce dall'idea di fornire competenze informatiche di base a coloro che ne sono sprovvisti, le casalinghe e i casalinghi appunto che non hanno modo di imparare altrove, ad esempio sui posti di lavoro, i rudimenti del mondo digitale. Il progetto elaborato da Scolastica, patrocinato dal comune di Ancona e a cui preso parte anche il comune di Senigalia, ha vinto il bando del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo alla ricerca, sono alla ricerca di bandi che ci mette nelle condizioni di poter dare sempre più servizi, progetti, sempre per il bene del cittadino. I progetti che hanno vinto sono stati pochissime, le domande invece erano state centinaia, quindi grande soddisfazione. Nelle Marche ci sono ben 9.400 casalinghe e casalinghi. Per coloro che lo vorranno, se appartenenti a questa categoria, saranno previsti nell'arco di un anno, 8 corsi di formazione webinar da 42 ore ciascuno. Ogni classe webinar sarà formata da 150 allievi. Per partecipare a questa azione formativa bisogna necessariamente avere la polizia assicurativa dell'INAIL. Questa polizia assicurativa ha un valore economico bassissimo, 23 euro. Per diventare iscritti alla nostra azione formativa noi mettiamo tutti le nostre abilità a loro disposizione perché stiamo cercando di semplificare questa pratica. Perché per dimostrare di essere iscritti alle casalinghe digitali bisogna avere questa assicurazione in AIL. Per avere l'assicurazione in AIL bisogna avere Speed, PagoPai, chi più ne ha più ne metta e quindi qui nasce la problematica che fa cortocircuito e che è uno degli obiettivi del corso. Mettere tutti nella condizione di muoversi nel miglior modo possibile all'interno del mondo digitale. Ed ora la sanità. Oggi la giornata di commemorazione delle vittime del Covid ha macerata il ricordo ma anche i numeri della AST nel 2023 più 5,8% delle visite. Vediamo. C'è un incremento di tutte le attività, dalle ambulatoriali alle chirurgiche. Quindi è un'azienda che è in continuo movimento e in risalita. Dico più volte che è un'azienda composta da serissimi professionisti che hanno disposizione delle apparecchiature d'eccellenza. Cresce l'attività chirurgica del 35%, 3459 sono i dipendenti di cui 506 i dirigenti medici. In genere è positivo il trend di assunzioni a fronte delle varie cessazioni, 82, le cessazioni di dirigenti medici a fronte di 95 assunzioni ad esempio. Sono solo alcuni dei dati del primo anno di attività dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata. I dati sono di una domanda sanitaria in continuo aumento a cui ha corrisposto un aumento di prestazioni sanitarie in tutta la regione ma in particolare nell'EST di Macerata che lo voglio ricordare durante i due anni di Covid aveva coperto i servizi con il proprio personale nello stabilimento Covid di Civitanova Marche. A proposito di Covid Hospital, Macerata ha ricordato le vittime e della pandemia nella giornata nazionale di commemorazione. Il Covid Hospital è stato smantellato e l'attac 128 strateghi che era allocata all'interno del Covid Hospital di Civitanova viene trasferita all'ospedale di Recanati secondo una prospettiva di scenario che è stata delineata negli atti di indirizzo della nostra regione. A Civitanova verrà acquistata una nuova attacca. Per quanto riguarda i fondi PNRR gli investimenti in arrivo e la realizzazione di case di comunità valgono per 15.500.000 euro mentre per gli ospedali di comunità 3.490.000 euro. Per le centrali operative territoriali stanziati grazie al PNRR 519.225 euro. Ci sono dei grossi investimenti sulle strutture territoriali e che quindi quello che noi saremmo chiamati a fare nei prossimi anni ma nei prossimi mesi sicuramente sarà quello di investire nella medicina di prossimità e nella presa in carico del paziente. Il dato emerge oggi è di una reale presa in carico dei pazienti, assistenza domiciliare e quant'altro che va evidentemente inserita in una rete più complessa che passa dalle case agli ospedali di comunità per veramente portarci a casa anche tramite i distretti tutti i pazienti con comorbilità o malattie o patologie croniche. Sport, l'energia delle buone pratiche, i premi di Estra nelle Marche. Ci siamo accorti che i ragazzi e gli adulti hanno sempre più attrattiva verso le nuove tecnologie che non sono da demonizzare ma noi abbiamo voluto creare un'occasione per tornare a riscoprire anche le vecchie modalità di divertimento, le vecchie modalità di condivisione, di stare insieme tra amici e in famiglia. E così la fondazione Oikos assieme a Gioeco e Dadi Mattoncini ha promosso Nei giorni scorsi ad Ancona l'evento Vieni a giocare con me, progetto finanziato dal piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del gioco d'azzardo patologico e dipendenze tecnologiche con il patrocinio dell'Asta di Ancona. Oltre 250 persone tra bimbi e adulti hanno dunque riassaporato il piacere di sedersi assieme agli altri attorno ad un tavolo e condividere quei giochi di una volta per rasprigionare creatività e fantasia attraverso laboratori ludici. Il successo c'è stato, il progetto ha fatto centro, c'è l'intenzione di provare ad esportarlo anche altrove, non solo nel comune di Ancona ma magari anche fuori dai confini comunali. Sì, assolutamente sì perché a grande richiesta il feedback che ci è stato dato proprio alla fine dell'iniziativa, super positivo, è stato chiederci ma quando tornate, quando lo rifate, dove lo rifate? E noi stiamo rispondendo di tenersi aggiornati, di seguirci sui nostri canali dell'Oikos per scoprire dove saremo nella provincia di Ancona nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La fondazione Oikos opera da 34 anni nel territorio marchigiano offrendo una risposta immediata e diretta ai bisogni emergenti del territorio, prestando particolare attenzione alle dipendenze patologiche, ai minori vittime di maltrattamenti e abusi e alle mamme in difficoltà nel ruolo genitoriale. È importante quindi sostenere una fondazione per promuovere anche i progetti di prevenzione e benessere orientati nelle attività scolastiche per i giovani e per le famiglie. Per noi sicuramente il discorso della rete è un discorso importante, quindi entrare in relazione con dei partner sia del territorio che non del territorio è fondamentale per creare delle risorse e delle soluzioni sempre aggiornate. E questo era ovviamente un servizio importante che riguarda le dipendenze tecnologiche, ma adesso andiamo a vedere appunto i premi di Estra nelle Marche. A Civitanova Marche lunedì 18 marzo è andata in scena la terza premiazione della Call to Action l'energia delle buone pratiche, promossa a livello nazionale da Estra in collaborazione con il CONI e il CIP. Noi ci contraddistinguiamo da tempo per essere un'azienda che opera sul territorio e ha come obiettivo quello di restituire valore al territorio in cui operiamo, che non deve essere uno slogan ma deve poi concretizzarsi in azioni come questa, iniziativa, sostegno economico alle associazioni che lavorano quotidianamente per la diffusione dei valori dello sport. L'obiettivo è dare lustro a quelle realtà che attraverso lo sport promuovono i valori della solidarietà e dell'inclusione sociale per abbattere qualsiasi barriera. Il fatto che nella nostra regione ogni anno siano aumentati i numeri di partecipanti, di società partecipanti a questo premio, la dice lunga sulla sensibilità che la regione Marche ha nell'aspetto sociale dello sport. Quest'anno abbiamo superato le 30 società e pertanto questo ha fatto scattare anche due riconoscimenti. Due premi, uno per il CSI di Ascoli Piceno, già promotore della psicomotricità nelle scuole dell'infanzia e di attività per i più piccoli nelle aree del sisma del 2016. E oggi vincitore grazie allo sport portato nel carcere di Marino del Tronto. Cerchiamo di creare un ponte tra quello che è il detenuto che ha, tra virgolette, espiato la pena e poi magari il reinserimento in società con un'attività sportiva fatta di eventi di confronto con realtà esterne di categorie. L'altro riconoscimento invece l'ha ottenuto l'associazione Il Tempio di Bellona di Fermo che promuove tra i bimbi il kickboxing. Vengono introdotti ad una disciplina marziale che permette loro di crescere in maniera importante ma vengono sempre affiancati da un'educatrice, da una pedagogista che promuovono la parte relativa alla costruzione del gruppo, dell'inclusione, lavorano molto sui valori. L'evento si è svolto all'Istituto Da Vinci. Grazie a chi ha voluto scegliere Civitanova per un momento bello come questo. Lo sport è veicolo di benessere, di crescita, di inclusione. L'amministrazione di Civitanova si impegna anche a valorizzare da tanto e ha anche tante realtà virtuose e inclusive sul territorio che sono eccellenze da un punto di vista agonistico ma sono anche eccellenze da un punto di vista valoriale. Tra gli ospiti illustri anche l'ex pallavolista Andrea Zorzi che ha raccontato l'importanza dello sport nella sua vita. Quello che io provo a fare in questo periodo è raccontare che anche la mia vita ha avuto un sacco di sconfitte, a volte difficili da superare ma più che altro l'effetto che ha avuto lo sport nella mia vita nelle varie fasi d'età. Dal preside del Da Vinci un monito agli adulti mai ignorare i segnali che arrivano dai giovani. Ascoltarli in quello che dicono esplicitamente ma anche tra le righe quello che non riescono a dire il più delle volte. Questa è la cosa prima, la principale, per poter poi essere ascoltati. Siamo ancora in diretta, allora andiamo a collegarci con Giulia Boschi che si trova al porto di Ancona dove sono in corso le operazioni di sbarco dei più di 300 migranti arrivati nel tardo pomeriggio a bordo della Ocean Viking. a te Giulia. Sì, grazie Linda, siamo in compagnia del prefetto di Ancona, Saveri Ordine che ci ha raggiunto e che ci darà adesso gli ultimi aggiornamenti soprattutto sui minori ma sui primi 50 migranti che sono sbarcati li abbiamo visti andare via. Sì, diciamo che è partito il primo pullman verso il Palasport che ha portato i primi 55 sbarcati tutti i minori non accompagnati erano lì dentro più altre 23 persone, in particolare nuclei familiari c'è una sola differenza rispetto a prima che tre di questi minori non accompagnati non resteranno nelle marche perché sono due troppo giovani sotto i 16 anni e una è una ragazzina non possono stare quindi con i minori maschi più grandi e verranno portati a Nova Siri in provincia di Matera già da stasera nell'ambito del progetto Sai Minori il resto è tutto quello che ci siamo detti prima. Si procede con 50-60 migranti alla volta che vengono appunto fatti sbarcare, fatti salire sui pullman e poi si va al pala indoor lì per le operazioni di riconoscimento dopodiché partiranno già alla volta delle regioni? Si, appena sono conclusi i fotosegnalamenti a gruppi di 50 e anche di più vanno verso le regioni le tre regioni, Toscana, Puglia e Lazio di loro destinazione cercando di farli stare quindi il meno tempo possibile nel disagio di una sistemazione di un pala sport per il quale continuo a ringraziare grandemente il comune di Ancona. Grazie, grazie quindi al prefetto di Ancona io per la domanda e ovviamente ci riaggiorniamo poi per altre. Sì, grazie a te Giulia allora noi ci fermiamo per il momento con il notiziario ma proseguiamo la nostra diretta per raccontarvi quello che sta accadendo al porto di Ancona nella prossima edizione del nostro notiziario anche a tra poco. grazie a te Giulia grazie a te Giulia